Ignazio Taibbi, 46enne, arrestato dalla polizia due volte in un giorno per evasione. L'uomo che si trovava ai domiciliari per un reato commesso a giugno è stato individuato in via Magri a bordo di una Fiat Punto posteggiata in mezzo alla carreggiata, in uno stato visibilmente alterato, così lo hanno trovato gli uomini delle volanti che lo hanno arrestato e ricondotto ai domiciliari. Ma nel pomeriggio la scena si ripete, avvertiti dai familiari i poliziotti lo trovano in via Mustomeli, ubriaco, e dunque, data la recidività della condotta, il giudice decide di riarrestarlo e condurlo questa volta in carcere. Alma La Spina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.